Suo marito non è gentile con lei? No. Lui pensa che io sia di sua proprietà. Ho bisogno di lavorare. Io le chiedo solo di darmi una possibilità. Ma tu sai fotografare? Il suo obiettivo era sentirsi libera. Sono le tizia battaglia del giornale e l'ora. Scusate, solo gli uomini possono fotografare i cadaveri? Le donne no? Attraverso i suoi occhi, scatti di storia. Queste foto le devono vedere tutti. Vede tutto il falcone? Non voglio dargli la vita. E l'Italia della strada. Mi piace fotografarle quando hanno ancora lo sguardo sognante. Una delle fotografe più grandi del mondo. Per me la fotografia è l'acqua dentro la quale mi sono immersa. Mi sono lavata e purificata.